musica 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 ma non ho capito ma Pago l'ho fatto oppure no? io l'ho fatto ma come si fa Pago? dico che dritto di andare e basta allora guarda allora guarda qui ci sono un problema non è che tatturino è la cano a posto ho fatto ma no 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 ma nà cia maronna ma allora qua c'è qualche problema di fondo bravo Pago mi sto portando di T-Roth perchè ma sti per che non ho fatto per Racer tsch sono un'idea se non mi è liberato non è quella giusta non ha risciuto è molto... guarda la... ma che cosa si fa? c'è... è molto good click non ho capito il cazzo di andare a dormire non ho capito, non ho capito non ho capito, non ho capito non ho capito, non ho capito non ho capito 10 minuti per una gara ma stiamo scherzando eh io ma tu sei il secondo che puoi ma non è possibile al terzo eh al terzo quanto ti hai messo? sono buoni di 4 minuti che sono qua ma come 4 minuti? è una volta... è una volta quando... quando vedrai qua... capirai dove sono morto per una volta infatti due volte che aprirei dove sono morto capirai? vedi qua ma chi... ma chi... ma chi sta fatta sta gara? che cazzo tenevo il capo? a merda mannaggia madonna ma... ma chi l'ha già capito? ma l'ho fatto! l'ho fatto anche io capolesta no ancora la prima rampa ma cosa stai andavago? Se non è indietro vuoi incontrare Ah, no Ma come dobbiamo tornare indietro? Che gara di merda No, mi ha doppiato Insomma Vabbè, se c'è il checkpoint da zig-zagatemi, non lo so Insomma Insomma, orti Ma non è che sangi sei rispetto a un sardo La storia, la storia, la storia, non lo so Ma 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 non lo so Questa Rambo Ciao 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 Io non ce l'ho proprio questa macchina, è l'unica macchina che ho all'azzo intorno, l'ho comprato e basta Ah boh, che fa? Che fa? No, bisogna osservare Per il fermo? Eh, toccasciò che siamo buttato per l'aria Eh, allora giù, allora ho un po' di tenuto questa cosa sul GTA Eh no, mi dispiaceva Bravo Paco Tu hai fatto tutto questo tu, eh, muovendo Ah boh Sperisci Ho paura Poi io stavo proprio l'acqua di dopo quando non parlate, mamma mia Oh, ma hai spaventato, guarda Se tu stai parlando, e poi che ci stiamo facendo, gli atti di pace Okay, por Genau Mai stavo studiato Mi stai studiato come ho scato 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 Mauro su viene Tantame, innabbo devi demonstrates Imagra No, mi sta facendo la curva al quadro S Styles ma non è lì, non è il tempo... ma non è il tempo, il bacino, non sono capitano, scherzino ma ora non è lì, ma non è lì, però io ho detto che ci sono stati ma non è lì, ma non è lì, ma non è lì ma non è lì, ma non è lì, ma non è lì ma non è lì, ma non è lì bravo, canti bravo guarda l'amore, c'è stato un tuo muro, ho preso il muro, fratelli ma guarda, mi vengono la macchinissima mi ha preso il gommone vabbè, io sono schettini, che hai già avviato eh, lo dicesse che sta prima, mi ha proprio che sta avviando, ha cavato un bacio no, ma non si fa un cazzo questa gara, io pensavo di peggio ma che significa questo? il gommone ha fatto via il gommone ha fatto via il gommone ha fatto via ma stai ma inutile fare sto santo mannaggia, marone ufff e non like the dog ma adesso senza fare un schifo infatti questa gara qua da fare almeno un 5-6 5-6 è che divertente si, qua ho il primo, se non puoi qua mi ha fatto una sfida fisica perchè Jeff fa ho visto qua ha fatto il chifo ah ma tu non sei passato, tu non sei passato io dico il prossimo di questo non sei passato insomma quello zero alla seconda gara di napoli ma guarda che schifo la macchina mia che farà per zotto dai per 4 bar mit ma mi sacco ok like the dog corre! rossi! quella laga prendeva non buttiamo là ah mannaggia marone mannaggia mannaggia io non posso trovare mandallari che cazzo li è possibile ma sei b sei b sei b sei b sei b mannaggia vado fermo e niente arriva da buona ok ok meglio ci battere il tuo culo in faccia mi rimi hai visto un goto giallo ma ronno ma cazzo ma che cazzo ha giocombinato ragazzi ma quanti 5 point sono che sa o no un 67 point c'è un po' un giro insomma ma c'è una persona tanto mi sto facendo viaggio copalato strada e insomma e insomma l'inverno non c'è un po' 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 infatti però non mi ronno piuttosto di iniziare a fare le preparazioni per i colpi no eh ma mi viene un genere non usciti 6 oggi è che non ti sei svegliato di 6 e ma ci accoppi l'uno ma se a luna stavamo ancora giocando eh quando abbiamo staccato io e te erano le 3-20 ah ok scusa era presto ma c'è la mamma ma la testa mi tocca venga una venga una sono io venga una venga una è buono io eh perché i tank ti freni in cino ti freni in cino ti freni in cino ma 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 ero uno stupro mentale per nabuse il giro eh perché non è possibile, almeno se ero con un trattorno il giro, fammi rogarmelo qua se metti i tre giri nella mappa è veramente lo stupro mentale oggi non c'è una sceme più, non mi stai venendo la prima cosa è che la media all'interno ho un zoomato all'interno, è presto non ho capito come può stare, sette secondi da Paco o quattro da Napco non ho capito che è il snogale da te Paco è il snogale da Paco non cazzo, mi vantò io sto tre da te e ti sei da Paco troppo ma di niente, ma di progettare il snogale io sto sei da Paco e ha tre da te insomma la gara a palino abbiamo fatto ma mi stanno castrando il relu da quanto correndo lui ho visto poco questo e cappottato pure io nooo guarda la, mi stessi recuperato poco sotto sto facendo recuperare una bomba non c'è un serio ma che stava già lucava a PGTA la bomba stante eh si guarda la NAB come vedo guarda che R2 è incastrato in due dito non c'è un malissimo non c'è un malissimo il dito ah? non c'è un malissimo il dito oggi venga R2 incastrato adesso un pochino in coppa fisica non prendiamo più R2 eh oh è GIONATAN oh questo noi che mi chiamo GIONATAN GIONANTE GIONANTE si chiamano oh lì sul passo dell'anno Oh! Like the dog! Like the dog! Mi sono passato le Paco! No! Lasciami! No, no! Me l'ha preso il checkpoint a me! No, no! Ma era possibile che io ero più sete da te e più sete da te? Ah, che si ti fa più dirle a Nabbo quando avevo investito? Eh, perchè dunque Nabbo mi ha superato! Non è che mi ha superato! Non l'hai superato? Eh, mi ha superato un po' Allora! 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 Allora, voglio sapere, da molti di voi, il capoluogo di Rescione del Friuli Venezia Erescione 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 Ma che è sta moto? Ma che è? Una moto di carabiniera Una moto di carabiniera Oh no, Pago ce l'abbiamo fatta questa Fino Ok moca Ma come due giri No Ma non like the dog proprio No Si Mannaggia I'm sick Aspetta, non l'abbiamo fatta questa a posto Aronni si è in buzz Aronni fu mai che la canta troia Oh La zia Mannaggia, non voglio campacchino Ma come? Ma come? Ma come sono 69 I capo? Ma che cazzo di... Maron Maron Ma io sono arrivato Ma ci... Perché mi dice che sono morti? Si... Oh! Si è bugato! Ci sono Ci sono anche io Sono più vivo che mai Diggielo Ci sono, ci sono E' una moto delle carabinie, però, ok? E' una moto del padre di Gemma, dai Ma come? Quello di Gemma, non c'è un'acqua di carabinie Oh già Oh... No, siamo là Questo di chi ha delle tastanti con due metri di tuffo Di ruffo, che cazzo sta venerà vicino Di due metri di zoom L'abbiamo fatta? non ricordo eh i nasacci weee ma lì è la modalità stanta però di zoom lo che non ti capisce niente non è un po' uè gravatemi ah ma ma ci stai nel long off ma come cazzo stai ma 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 cazzo stai nooo capito un po' eh mo? ma qua io buco di prova tu hai fatto ancora nooooo mamma 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 ah dai ma Stafford ma lieve os hai ma ci stai E poi mi metti di tutto, tocca ai mani Ma c'è un'intubra, guarda il stand che mi decongena Ma perché sono scemo? Perché ho messo due giri che sopra di coglioni? Oh no, Paco! Paco, io ti odio! È un po' di più Placcio, padre C'è un po' di più Ma faccio che tu abisci la buonanzi Adesso? Ho, abusi, tu abisci la buonanzi Ok, ma che cosa vuoi? È un po' di più Ma che stagò non sta? ma si rambi in nascondendo vero mamma mia mi pego se la mangiava per nulla annaccia la miseria ma io sto riavviando l'unico eco-moinder è possibile ma serio pure io ma devo riavviare l'altro altro per me mi zii mi zii i fogli stavano in stacato ma nonna ci mancata la rampa ma sei tu la cammana stavo sull'utri lui in da mappu pensavo che era pago è pago visto che è nata patrone oh no ma disattiva me la cazzo di visuale stanta a me che cazzo me ne foste no 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 questa cosa ma che cazzo è succiso no 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 mi foste ma che palle no mi foste mi sanno e mi deconcentra o no non ce la faccio più ma annaccia tu patre piu un bastard di merda dove mi ricanculo già è morto, che senso guarda per te la volta io vengo 025 chi è? gemman gemman ha detto che stango è tornato tra le cose sono ancora 6 g c'è che cazzo ma ma ah non 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 ehi, ehi, ehi ah, è porcazzo ah, DIVO, te l'ha nato, palazzo come pago il DIVO? nooo ehi, che bello, finalmente pago, se non diceva il DIVO lo sai che ho DIVO, vero? sai se io azzocco un DIVO DIVO il DIVO, il DIVO ah, parla un'afletana, no ragazzi, fatemi sentire a casa, eh, domani mannaggia, Maron, no che bello, finalmente ragazzi, ho chiesto, aspettate noi stiamo un pochino di colpa non è vero che cazzo, non è vero che cazzo insomma, sta gara ho chiesto proprio un cazzo eh, in vera, inizio, inizio, cercavo prima già, ah, ma che si? un cazzo un cazzo un cazzo è proprio in tuo canale ma fai fatti in tuo canale, no? invece che faccio sublappatante ma io sono arrivato no, c'è qua dentro ah, no, forse, non male ah, mamma mia però che maronno che ah, 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 ah ho 10 minuti a gara però non ci può fare ah, ah, ah ah, ma io non posso fare che mi ti aspenmo ogni volta ma non te le ne manca ma bene, manca, no? la sesta, la settima e l'ottava manca ah, non mi piace ma che maronno? ma come è la prossima? che macchina è questa? che cazzo è la carbonizzare? ah, è a fianco Pago che cazzo è? però che colori in merda che cazzo è? Pago c'è la macchina personalizzata ah, dure oddio rossi c'è, no, ho un po' che esplode vada a chi sto animale da qua la carabola che arrivo a terzo ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah, ah ma che è una gran anzareta, ma così si ah, ah, ah a me non gioca per dimmi, se cocone ah, ah, ah ah, ah ah, ah, ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah 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 no, l'ha mancata no, 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 no no, 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 no ah, ma io non mi distaccato ma che tutti i map, mi giuderei se i map giate Ah guarda, quando è un po' del reni diciamo che non si è accampato sulla lista, gli da morto Mannaggia l'albero Dove fettare? Adesso c'è la faccia Dimmi tu Scusa qua in giusto Vado il sua Rambo Vado? Sì vado Poi sembra il Macapot E' niente Like a dog Oh Forse il Savage Ce l'è Savage Ma Ma Ok ce l'ho fatto Dià però che mappa in me Cioè non è possibile giocare ogni volta terza Mamma mia Cioè non c'è Il Capone Pugnale Portanto Passaggio Questa è una rotazione Comunque Ma Sì E' la Dick Pugnale Vediamo a me non mi avevano fatto tipo 5 mila, guarda è rosa, manco è viola è viola, è viola, è viola a me è una macchina elettrica, non pare un muro pure ecologico vado, corro, corro guarda che stufittina candazocla oh no, oh no che pezzo è combinato ho fatto solo danni parlo su giudo mannaggia, ne vai in do buco mannaggia, la miseria mannaggia, la miseria mannaggia, la miseria mannaggia, la terza sono arrivato, mamma mia macchina elettrica mi ha narrato, del vivo non c'è nessuno mannaggia, la miseria non c'è nessuno non c'è nessuno mamma mia non c'è nessuno ma Jet qua knowing la scia la cosa sta bene si può recuperare vai corri è bello che è mo' il 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 mo' non ci vuol dire, non darà un po' un mese, non ci sono tutto buco ragazzi, perciò non ho finito studio con te lo buco ma che non faccio l'acqua? non faccio l'acqua non faccio l'acqua io non lo scelpevo un po' un po' e ce lo prenderò eh mannaggia chi ti è straviecchio mannaggia io già vengo dalla bachmart vengo ho cominciato a ballare e che cazzo che è già fatto? è come se fai la gara con brumotti senza bicicletta che cazzo fai la gara? che cazzo fai la gara? eh c'è la timo che aveva il muro la maglia c'è la timo oh cazzo ma chi è? mannaggia padre bingli ma che cazzo fai la gara? ma come ha accesso i secondi? no mi sta agendo un attimo dai si gonfia la rete si gonfia la rete si gonfia la rete no altro che me si mi aspetta che a meno faccio qualcosa va bene però quando vabbè io ho tratto perché potevo fare fuoco tipo ti sento aspettato quando avevi bisogno no le morte a meno careggio con te qui lascio vincere alla fine vai puoi andare vai no no chi vince 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 guarda capite che potevo careggio come promettavo all'ardo guarda guarda Ashmart supera la Vontic no che macchina però pago no no ma la Vontic però la Ashmart Eh vabbè, tu mi è andato a fianco su un po' E' troppo strano, è vero Sai che a Kars, quando c'era quello rosso, quello marrone che smingeva quello rosso State, Paco, sei arrivato a seconda mappa, no, come belle punte che stai facendo In genere, 1-0, tutto mandi, è proprio belle punte, per il lato gollo 95esimo Vabbè Ti migliora la famiglia da dormire, ben amore Non mi piace Non mi piace Eh no, se vi è andata da due trattorine, se vi già... che ci stiva Paco, ma perché ha commeggiato le palla a mano? Già, faccio caccio pezzo Poi io ho già fatto una cosa, la puttana ha già questo Ma è una bella gara col Paco, oh no Ma che è il cao Ma che è il cao Ma io vado, ti frate di cazzo Ma io vado, ti frate di cazzo Ma io vado, ti frate di cazzo, e che va che è? Eh vabbè, ho perso Rullato primo per una volta Oh Rullato Abbiamo sbagliato la categoria, secondo me Ti frate Rullato 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 Però si può fare Si propongo di impennare Dove si Bravo L'ho preso L'ho preso ... Mannaggia, madre P! Mannaggia, padre P, io che mi hanno impuato. De un bastard in mea! Con le mani impossate. ... ma perché si è un mesaccito? Io non so come la città. da un po' mi ho buttato fuori, mi ha fatto via il checkpoint che succede? mi ha buttato tu fuori, stavo facendo la razza e mi ha buttato fuori, mi ha fatto via il checkpoint bravo, mi faccio via il checkpoint dalla laggenda oh no, la devo rifare, oh no padre cristo di mio ma perchè? ma perchè? ma come santa facca? ma ragiuso, chi è quello che vola per te io? padre cristo di mio, mi devi fare un'altra volta ma perchè io esagino? però... a un certo punto quello è buono volo ma è meglio un po' mi non mi fa morire non è vero, questo mi deve fare un'altra volta scuola mannaggia, stai signora viattone in merda, che cazzo suardo ma non mi fa morire dopo un po'? stagaro va bene, è quello che si fa cura a me nhưng è fatta ma perché è morto sto computer historia? stagaro va bene s'ha sfaata mio basji n Spotify non mi pare, nessuno abbotti male sempre mi sp Charles ma Level 2 io no non mi faccio non mi fiume no www.barco.com nooo guarda che per il bacio mi imbacciassi tu paco devi smirire il video paco 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 sembra col cazzo lungo metro lunghissima eh? seconda cosa mp mia si ah che cazzo metri lunghissima 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 bravi ragazzuli grazie mille grazie mille oh c'è arrivato secondo che è arrivato gol lunghissima grazie mille lunghissima Grazie.